Hola ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Porchi e oggi siamo tornati qui su PuzzleBubble4, nella scorsa parte avevo fatto i livelli della F e della J se non sbaglio, oggi invece faccio i miei livelli Oggi vediamo avanti Ok Bene, no, scusate, ho sbagliato Ok Ok Bene Ah, prendilo, no! Pannazione Ok 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 Ok. Ok. Bene. Per fortuna il piccolo blocco di legno mi ha salvato. Ok, dannazione, maledizione. Ok, dannazione, maledizione. Bene. 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 ok 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 bene con questo non ho avuto bisogno del pulsante del puntatore no ok dannazione ok bene 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 vabbè ok ho buttato un po' troppo del potere no del puntatore ausiliare ok ok bene 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 ok questo è l'ultimo livello finale no l'ultimo livello o meglio l'ultima stage dannazione dannazione no 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 Grazie. Ok. 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 Ah. Ok. Ok. Bravnazio. In questa parte sono più i fail delle... lele va bene ... vabbè... ... ok... Dannazione! Siamo tranquilli! Ok! No! Dannazione! Ok! 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 Grazie. Grazie. Grazie.